buongiorno e bentrovati alla rubrica domanda risponde questa settimana parleremo di elezioni amministrative e la normativa sul servizio del personale il press in cui lavoro verrà chiuso per le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 poi dirigente scolastico utilizzarmi in altro plesso dello stesso comune dove invece si svolgono regolarmente le lezioni se sono sospese tutte le attività degli alunni di quel singolo plesso succursale ma non quelle delle altre sedi della scuola il personale docente eata non è tenuto nei giorni lavorativi di chiusura a prestare servizio nelle altre sedi salvo chiaramente non vi siano effettive e motivate esigenze di funzionamento l'utilizzo comunque il personale non può essere deciso in modo unilaterale dal dirigente scolastico ma deve essere regolato dal contratto integrativo di istituto seconda domanda ho una supprenza breve vino come docente fino al 15 di ottobre mi spetta il permesso per svolgere le funzioni di rappresentante di vista per le elezioni amministrative del 3 4 ottobre al lavoratore con contratto a tempo indeterminato cioè di ruolo o a tempo determinato anche come supplente breve sia che sia una scuola pubblica e sia nel privato è chiamato dunque a svolgere funzioni presso i seggi elettorali per le elezioni sia del parlamento sia le elezioni appunto amministrative come quelle comunali o in occasione delle consultazioni referendari ai sensi dell'articolo 119 del testo unico numero 361 del 1957 modificato nella legge numero 53 del 1990 e dell'articolo 1 della legge 69 del 92 è riconosciuto il pieno diritto di astenersi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e discutino dalle dall'attività di insegnamento l'assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti terza e ultima domanda sono un docente a tempo determinato a bologna in vista delle elezioni amministrative di ottobre assolverò le funzioni di rappresentante di lista lunedì 4 ottobre a bologna è festivo in quanto è festa del patrono posso in seguito richiedere come riposo conserva compensativo due giorni per appunto compensare la domenica e il lunedì che il giorno del santo patrono e la scuola è chiusa per quanto riguarda i riposi compensativi si ricorda che l'orientamento della corte costituzionale secondo cui il lavoratore ha diritto al recupero delle giornate festive o non lavorative destinate alle operazioni elettorali nel periodo immediatamente successivo ad esse e comunque se in accordo con dirigente scolastico anche in periodo ancora successivo speriamo che queste risposte siano utili per i nostri telespettatori per i nostri lettori ci vedremo la prossima settimana come tutti mercoledì arrivederci grazie a tutti